Siamo qui ad Arezzo alla fine del secondo giorno di gare con Filippo Moyerson che assolutamente non ha bisogno di presentazioni. Com'è andata? Il primo giro non è andato bene, ha fatto tre errori e il secondo giro invece la cavalla ha saltato molto bene e ha fatto zero. La sua cavalla a Canada? Sì, è arrivata qui molto impreparata, nel senso che era stata ferma, ha ripreso lavorare un mese fa e per cui ho fatto fatica a fare dei percorsi impegnativi prima di venire ai campionati. Praticamente ha fatto cinque percorsi di 1,35 e poi ha fatto solo un gran premio top a Manervio due settimane fa, per cui era abbastanza indietro con la preparazione sul campo, con la preparazione tecnica. Quale sarebbe stata la preparazione ottimale invece? Avrei dovuto fare almeno due CSI 3 stelle facendo il gran premio, cosa che però non è stata possibile proprio perché ho dato un periodo di riposo e ho iniziato molto tardi. Come si vede per il resto del concorso, della gara? Ormai sicuramente sono fuori delle prime posizioni per cui lo userò come percorso di esercizio ancora, di lavoro per portare avanti la cavalla per rimetterla al 100%. E i prossimi appuntamenti? I due CSI da Etrea e poi ci sarà ancora la tappa top sempre da Etrea e poi si vede. E poi si vedrà. In bocca al lupo allora, grazie mille, arrivederci.